Durante i lavori per l'alta velocità alla stazione dei treni di Bologna venne rinvenuta una vecchia necropoli, le cui tombe mostravano anomalie, scheletri con chiodi nelle gambe o nel cranio, o con i piedi tagliati e ricollocati dietro la testa, corpi decapitati con la testa appoggiata tra i piedi. Secondo alcuni si tratta di un autentico rituale necrofobico che sarebbe servito a impedire che gli spiriti di questi morti tornassero dopo la sepoltura. Tale ipotesi sarebbe relata ai cosiddetti Revenant, i non morti, collegati strettamente all'origine dei vampiri.